Musica Elezioni amministrative aperte fino alle 15, le urne in 10 comuni della provincia di Padova, pesante calo dell'affluenza che ieri sera si è fermata al 44%. Superato il quorum del 40% nel comune di Galzignano Terme dove si presentava un'unica lista elettorale, si va verso la riconferma del sindaco uscente Riccardo Masin. Quinta notte in tenda per gli studenti universitari in protesta contro il caro affitto con il comune e allo studio uno sportello per evitare le numerose truffe. E' partito da un pentolino lasciato sul fuoco l'incendio in un appartamento abitato da studenti accaduto in via palestro. Un milione di euro ridistribuito ai cittadini dei comuni del campo San Pirese grazie alle multe pagate. Nel 2022 saranno finanziati nuovi servizi. C'è conclusa la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udina 800, le penne nere partite da Padova e Rovigo. Record di ascolti Triveneto per il gruppo Mediano Nord-Est. Giornata memorabile per le gemelle padovane Diletta e Vittoria Fusetti che conquistano le medaglie d'oro e d'argento nei campionati nazionali. Buongiorno e benvenuti al Tg di Telenord-Est. Apriamo il nostro telegiornale con la pagina elettorale. Urne aperte, ma insomma vediamo qual è l'affluenza. 10 comuni al voto, 23 candidati sindaco, 67 mila padovani chiamati alle urne. Si chiuderanno alle 15 segie elettorali delle amministrative 2023 con un dato che balza subito all'occhio. Il crollo dell'affluenza che ha fatto registrare un 15% in meno fino a ieri rispetto a 5 anni fa quando in realtà si votava in un'unica giornata. Per la provincia di Padova il dato registrato alla chiusura dei segie le 23 di ieri si ferma al 44,8% complessivo con il piccolo record di Casasserugo che raggiunge il 56,1% tallonato da Villanova di Camposampiero che sfiora il 50% e il dato negativo di Codevigo fermo al 36,6%. A sorridere per ora sono gli abitanti di Galzignano Terme dove si presentava un'unica lista elettorale con candidato sindaco Riccardo Masin il primo cittadino uscente. Qui la registrazione dell'affluenza delle 19 ha registrato il 40,1% dei votanti arrivando alle 23 al 47%, superando così il quorum del 40% necessario per evitare il commissariamento. In attesa dello scrutinio Masin si avvia quindi verso la riconferma. Tra gli altri comuni occhi puntati su piove di sacco, unico municipio della tornata con oltre 15.000 abitanti e due candidati alla poltrona di sindaco. Tra gli altri comuni al voto Mestrino e Maserati Padova, popolosi municipi della cintura urbana. 1.700 gli abitanti di Megliadino San Vitale, il comune più piccolo di questa tornata amministrativa. Torneremo poi sui dati, sulla florenza, ovviamente sui risultati nel seguito della nostra informazione. Adesso torniamo a Padova, cambiamo argomento perché sono ormai da giorni in protesta gli studenti universitari per il caro affitti. Vediamo. Buongiorno da Padova, ci troviamo qui con Domenico Amico che è coordinatore dell'Udu. Gli studenti universitari in protesta contro il caro affitti sono arrivati alla quinta notte. Una protesta che sta andando avanti, avete ricevuto visite eccellenti ma da qua non vi schiodate, continuate a protestare Domenico. Sì, pensiamo appunto di continuare nonostante abbiamo avuto tre diverse interlocuzioni con tre soggetti, rispettivamente l'amministrazione col sindaco, l'università con la rettrice e il presidente dell'ESU. Il nostro obiettivo era fin dall'inizio poter avere un incontro con la regione, con l'assessorato all'istruzione, ma anche col presidente della regione che in questi ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni a nostro favore. sta di fatto che ancora non abbia avuto alcun tipo di interlocuzione con la regione. Ecco, nel frattempo c'è stata un'idea che state mettendo a punto con il Comune Domenico, che è quella della creazione di uno sportello antitruffa, perché questa è una piaga nella piaga. Oltre ad avere affitti molto cari, anche tanti studenti vengono truffati. Sì, esattamente. Parto dicendo semplicemente che in cinque giorni abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti tantissimi temi. Siamo partiti dal caro affitti, dal denunciare il costo troppo elevato degli affitti per poi arrivare a diversi punti. Con l'ESU abbiamo parlato delle menze gratuite, in quanto non abbiamo i soldi non solo per gli affitti, ma per la vita universitaria in generale. E proprio ieri abbiamo iniziato a discutere anche di un tema che denunciamo da tempo, cioè quello delle truffe. Abbiamo iniziato a discutere e a trovare anche delle soluzioni per arrivare a settembre e ottobre preparati, perché il problema principale è arrivare all'inizio del nuovo anno in cui gli universitari iniziano a trovare casa e vengono tempestati da annunci falsi, da contratti in nero, da contratti che non sono a norma delle locazioni turistiche. E l'idea è appunto quella di creare un punto in cui gli studenti universitari sanno di poter andare, poter consultarsi, poter capire se effettivamente quel contratto sia norma o se quell'annuncio sia effettivamente vero. Insomma, nasce dalla necessità che troppi studenti universitari subiscono truffe nei mesi di settembre e ottobre. Nel frattempo si prepara il pagamento della terza rata. Quanto dovrai versare, Domenico? Per la terza rata io dovrò versare circa 1.000 euro, per varie condizioni, dovute all'ISP, dovute all'ISEE, per un totale quasi anno di 2.000 euro, dovuto sicuramente a criteri anche economici e familiari, ma come dire, penso che la vita universitaria costa sempre di più e oggi non solo devo pagare le spese per le prossime settimane, in più mi devo ritrovare anche a dover pagare l'università. Ecco, questo è sicuramente un argomento di cui continueremo a parlare, continueremo a discutere. Ringraziamo Domenico Amico per la sua disponibilità e da Padova restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, Cristiano Caillende e il loro ospite naturalmente per questo contributo. Rimaniamo su questo tema, sentiamo le parole di una studentessa che ci parla anche di solidarietà. Teresa Cozzi del Senato Accademico, oltre che dell'UDU, studentessa universitaria. La Padova vi sta un po' adottando? Sì, ogni mattina arrivano diverse persone a portarci dalle brioche al cibo per il pranzo e soprattutto moltissime persone si fermano e dicono che supportano la causa, che la sentono molto vicina anche a loro, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Anche l'università, anche il comune vi stanno aiutando? Sì, è passato sia il sindaco Sergio Giordani che la rettrice e diversi prorettori. Abbiamo fatto con entrambi dei colloqui per parlare della situazione e giungendo anche a qualche conclusione di lavoro che possiamo fare assieme. Voi nel frattempo state comunque continuando a fare gli studenti? Sì, infatti abbiamo l'aula studio qui vicino, ci carichiamo i computer, i tablet, i telefoni e un po' studiamo qui in tenda, un po' andiamo alla studio, quindi diciamo che facciamo un po' i turni così ma continuiamo a frequentare e a studiare per la sessione che si avvicina. Studenti che tra l'altro si sono dimostrati sensibili, non state facendo fatica a trovare chi viene a dormire in tenda? Assolutamente no, tutta l'associazione ma anche altre persone, amici che passavano di qui hanno deciso di fermarsi, tanto che una sera siamo arrivate una ventina di persone a dormire qui e più o meno ogni sera siamo in una quindicina. Quindi è un tema molto sentito, una manifestazione, una protesta che è stata molto sentita da tutti quanti. A proposito di studenti, vediamo gli esiti di un incendio avvenuto in un appartamento studentesco. Un pentolino lasciato sul fuoco, una prima esplosione, il risveglio e le fiamme. Quella che è stata una disavventura, poteva essere una tragedia in via Palestro a Padova, domenica mattina alle 4, fuoco in un appartamento abitato da quattro studenti stranieri. Forse una pentola dimenticata sui fornelli ad innescare il rogo, su cui stanno ancora indagando i vigili del fuoco. Ad accorgersene subito Mustafa Koli, ventottenne del Gambia, che ha prontamente svegliato i coinquilini. Subito si sono messi all'opera per spegnere le fiamme, accorgendosi che l'incendio partiva proprio dal fornello. Il ventottenne si è lanciato tra le fiamme e ha chiuso la valvola del gas, evitando tragiche conseguenze. In pochi secondi le fiamme si sono placate, scongiurando esiti peggiori. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno definitivamente spento il rogo e messo in sicurezza l'appartamento. Restiamo nella pagina della cronaca, vediamo un arresto per droga a Padova. Continuava a spacciare nonostante fosse sottoposto al divieto di tornare nella provincia di Padova. Torna in carcere il pusher tunisino già arrestato dalla squadra mobile di Padova lo scorso 1 maggio, indagato anche per violenza sessuale nei confronti di una 14enne a cui aveva venduto la droga. In quell'occasione, durante la perquisizione in casa, i poliziotti avevano trovato nella sua abitazione 12 dosi di cocaina e delle hashish. Gli agenti hanno controllato i suoi movimenti in queste settimane e lo hanno visto tornare più volte nell'abitazione e poi spacciare. Un cliente, fermato dai poliziotti, ha raccontato che si era rifornito da lui almeno altre tre volte in questi ultimi dieci giorni. La procura ha disposto così la detenzione in carcere. Nei confronti del tunisino verranno pure avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Fine settimana di controlli per i carabinieri in Alta Padovana. Sono 120 le persone controllate dai carabinieri della Compagnia di Cittadella in collaborazione con la squadra intervento del IV Battaglione Veneto nello scorso fine settimana nel corso di un servizio mirato al contrasto degli eccessi della Movida, soprattutto tra i giovani. Fermati anche una cinquantina di veicoli. I militari sono entrati in una dozzina di locali accompagnati dai colleghi del Nasti Padova che hanno verificato le condizioni igienico-sanitarie e la genuinità dei prodotti somministrati. Ora andiamo a Conselve per vedere le condizioni di salute del bambino che stava per soffocare a causa di una caramella. È fuori pericolo ricoverato all'ospedale di schiavonia il bambino di tre anni che ieri ha rischiato di morire soffocato per colpa di una caramella. La tragedia sfiorata fuori dalla scuola di Conselve, il piccolo stava correndo verso la mamma quando all'improvviso la caramella è andata di traverso. Una scena vista da una maestra che ha iniziato subito le prime manovre di soccorso. Per fortuna sul posto c'era anche un infermiere soccorritore del servizio di ambulanze pronto Conselve che era andato a prendere a scuola la figlia. Vedi il bambino tra le braccia di una docente che iniziava le manovre di Emlich. Preso il bambino tra le braccia, le ho portate a termine con le percussioni dorsali dislocando quindi quel corpo estraneo che era una caramella che il bambino aveva malamente ingerito. Ancora una volta la manovra di Emlich fatta tempestivamente è stata fondamentale per salvare una vita. Qualsiasi corso di primo soccorso possiamo apprendere quelle piccole manovre che diventano poi fondamentali come questa nel disostruire le viere, in questo caso di un bambino piccolo dove andiamo a percuotere tra le scapole con un'azione decisa dal basso verso l'alto lateralmente al collo più volte per appunto esercitare questa compressione per espellere il corpo estraneo dalle vie aeree del bambino. Manovre semplici che possiamo acquisire in corsi di primo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare. Sensibilizzare fin da piccoli ad apprendere queste tecniche è importante per questo negli ultimi anni sono aumentati i corsi di primo soccorso che vengono fatti a scuola. Dovrebbe essere questo un patrimonio che appartiene a ciascuno di noi, già nella fase scolastica, formativa, educativa che parte fin dagli 8 anni fino all'età maggiore e questo come ricchezza personale nel saper quindi approcciare e affrontare una qualsiasi situazione tempo dipendente, qualsiasi mezzo d'emergenza per quanto prontamente disponibile non potrà mai essere in un luogo ed esercitare queste manovre se non già presente in pochissimi minuti. Torniamo sulle strade dell'Alta Padovana perché ammonta un milione l'incasso per la Federazione del Campo San Pierese delle multe. Un milione di euro per 10 comuni, tanto sarà redistribuito ai cittadini della Federazione del Campo San Pierese dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, una cifra derivante in parte da avanzo di amministrazione ma soprattutto dal ricavato delle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale. I fondi saranno suddivisi tra i 10 comuni in base al numero di abitanti e all'estensione del territorio. Spetterà poi a ogni singolo comune scegliere come investirli. Con una variazione di bilancio, il Consiglio della Federazione ha inoltre deciso di destinare a Veneto Strade 250 mila euro per le asfaltature dell'ASR 308 del Santo. Usciamo dalla pagina della cronaca ma restiamo in zona. Un nuovo servizio per i cittadini è stata inaugurata alla sede dello sportello lavoro promosso dall'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta in collaborazione con Veneto Lavoro e coordinata dalla cooperativa L'AS di Carmignano. Questo servizio mira a facilitare il collocamento e l'occupazione grazie al supporto ai cittadini e alla ricerca di un impiego. L'obiettivo è quello di crociare le richieste delle aziende e le domande di lavoro. In meno di due mesi di attività, lo sportello ha già avuto oltre 50 accessi prevalentemente donne disoccupate alla ricerca di un lavoro ma anche già occupate e desiderose di migliorare o stabilizzare la propria posizione e 15 aziende che invece cercavano personale. Cambiamo ancora argomento, parliamo della dunata nazionale degli alpini di Udine tantissime persone nel capoluogo friulano ma tantissime anche davanti alla televisione. Padova, Padova, Padova. Tutti sintonizzati su Rete Veneta Antenna 3, Tele 4 per non perdere il passaggio delle amate penne nere. È stata una domenica da record per numero di telespettatori per il gruppo Media Nord-Est la 94esima dunata nazionale degli alpini di Udine. La parata è iniziata alle 9 del mattino, ha visto il clou nel pomeriggio 85.000 gli alpini fieri in marcia lungo le strade della città friulana. Intorno alle 17.30 lo sfilamento delle 800 penne nere partite dalle sezioni di Padova e Rovigo dove i gruppi sono 41 e gli iscritti circa 3.000. Un amore, una passione, un simbolo degli alpini in grado di parlare a tutte le generazioni, a chi la guarda la ricorda o la vissuta, a chi nella divisa alpina riconosce i valori di sacrificio, solidarietà, altruismo e amore per la patria. Una dunata caratterizzata dalla pioggia che ha fatto compagnia per buona parte delle tre giorni e nel momento clou di domenica. A fine giornata il saluto con l'appuntamento veneto del maggio 2024 quando, dopo 33 anni, la dunata nazionale tornerà a Vicenza. Cambiamo ancora argomento, passiamo allo sport con un grande successo per le gemelle Fusetti. Una dinastia in pedana. Dopo i successi delle sorelle maggiori Benedetta e Carlotta Fusetti, le giovanissime gemelle di Letta e Vittoria entrano nella storia della sciabola italiana. Sono infatti le prime sorelle ad aver vinto un oro e un argento in una gara del campionato italiano Under-14. È successo a Riccione, dove si è disputato il Gran Premio giovanissimi Renzo Nostini, trofeo Kinder Joy of Moving 2023. Le padovane Fusetti, allenate dal maestro Alberto Pellegrini, infatti, hanno raggiunto la finale dominando i rispettivi tabelloni per poi trovarsi una contro l'altra. Una gara serratissima che ha visto prima il vantaggio di Diletta, rimontata dalla sorella Vittoria, che ha conquistato il suo secondo titolo italiano in carriera. Chiudiamo con una notizia un po' meno piacevole per i padovani, perché il calcio padova è fuori dai play-off di promozione. Svanisce il sogno della B dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro la Virtus Verona. Partita viziata, come si suol dire, da errori arbitrali. I biancoscudati, infatti, è stato negato un rigore settantesimo che avrebbe ribaltato le sorti del match. Se il calcio padova piange, il Petrarca Rugby ride. è comunque conquistato ieri in casa il passaggio alla finalissima contro il Rovigo di domenica 28 maggio. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguriamo un po' pomeriggio.